ciao a tutti bentornati sul mio canale oggi ho preparato un nuovo tutorial per voi se vi piace questo video lasciatemi sotto nei commenti un coricino grazie prima di iniziare vi presento questa bellissima collezione della marca madame glam i colori stupendi perfetti per questa stagione autunale come sempre vi lascio il codice sconto di 30 per cento nella descrizione di questo video che potete usare sul loro sito tolgo la dispersione del prodotto e sopra attacco questo bellissimo sticker che ho comprato su aliexpress disegno una striscia con base gel e non polimerizo in lampada sopra attacco le scale color oro musica disegno le foglie di due colori e mezza sfumo con base gel aggiungo i contorni delle foglie con penne marrone senza dispersione marrone senza dispersione copro solo la parte glitterata della foglia con top coat senza dispersione uso la matita per disegnare i contorni del riccio la matita per disegnare i contorni delle foglie con penne aggiungo i contorni più scuri della faccia con base gel sfumul colore grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti mischio il colore rosa pastello con una goccia di rosso sfumul contorni delle goancia con base gel aggiungo il contorno nero sottile della faccia con paint nero senza dispersione grazie a tutti 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 preparo il colore per le sfumature il colore arancione lo mischio un pochino con base gel e dopo aggiungo le sfumature arancione da qualche lato aggiungo il colore rosso e con base gel lo sfumo grazie a tutti 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 grazie a tutti